ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere passo per passo come realizzare questo meraviglioso e semplicissimo cappellino guardate che meraviglia è davvero molto particolare e molto molto bello quindi se il progetto vi piace avrete bisogno ovviamente del pilato e della pazienza e della curiosità di andare a seguire questo tutorial insieme con noi iniziamo subito partiamo subito e andiamo avviare le nostre 30 maglie per l'avvio andiamo utilizzare la catenella perché successivamente avremo bisogno di andare a recuperare le maglie e questo è uno dei modi più efficaci comodi sicuri per avviare le maglie provvisorie entriamo in ogni asolina della catenella realizzata in precedenza e andiamo a ricavare e avviare 30 maglie ed ecco qua una volta che abbiamo avviato le nostre maglie siamo pronti per partire con la lavorazione dobbiamo fare attenzione alla nostra maglia di divanio prima maglia di divanio all'inizio di ferro che noi andremo a crearla a catenella decorativa perciò andremo a spostarla però avvolgendola in questo modo con il filo avvolgiamo mettiamo più da di dietro come se dovessimo fare una lavorazione diritto e andiamo semplicemente spostando dopo di che andiamo lavorare tutto il ferro a diritto ecco che stiamo arrivando al fine del ferro e ci ricordiamo che la maglia di divanio finale ultima va sempre lavorata a diritto dopodiché che abbiamo messo questa base dobbiamo andare a lavorare il nostro progetto portando avanti il nostro motivo legato e le nostre maglie 30 maglie agliate per 46 centimetri facciamo attenzione quindi alla maglia di divanio che dobbiamo andare a realizzare la maglia di divanio decorativa al dentino quindi quella che va spostata con il filo che avvolge che ci permette appunto creare una specie dei dentini questo ci servirà per la lavorazione successiva ci vediamo quando abbiamo realizzato i centimetri di cui abbiamo bisogno ed ecco qua così si presenta il nostro futuro cappellino dopo che abbiamo portato avanti la nostra lavorazione per 46 centimetri con il nostro motivo a legaggio e abbiamo 15 di larghezza queste sono le misure che corrispondono a una circoferenza della testa del 56 centimetri ora il nostro passaggio successivo consiste nell'andare e recuperare le maglie che avevamo avviato utilizzando la catenella il nostro avvio provvisorio ed ecco qui abbiamo recuperato le nostre maglie che ora sono sul ferro ora noi dobbiamo andare realizzare una chiusura invisibile sul legaccio senza utilizzo del filo senza utilizzo degli aghi oppure lucinetto ma direttamente lavorando con le maglie stesse che sono presenti sul nostro ferro guardato noi ora andremo a intrecciare diciamo così le maglie tra di loro andiamo con il ferro di destra agganciare la prima maglia e spostarlo sul ferro di destra dalla sinistra a destra senza lavorare subito dopo andiamo ad accavalcare la maglia appena spostata questa maglia che abbiamo appena cavalcata la abbiamo adesso andiamo a spostare sul ferro di sinistra quindi la rimettiamo al suo posto ora andiamo a fare il contrario con il ferro di sinistra andiamo prendere la prima maglia che si trova sul ferro di destra senza lavorare ma spostando subito dopo la andiamo a cavalcare con la maglia che c'era sul ferro di sinistra e torniamo dopo averla cavalcata a rimetterla a spostarla sul suo ferro ora di nuovo andiamo a prenderla una maglia dal ferro di sinistra la andiamo a cavalcare con la maglia che c'è che si trova sul ferro di destra la rimettiamo al suo posto ora di nuovo scambiamo andiamo a prendere una maglia dal ferro di destra andiamo a cavalcare con la maglia dal ferro di sinistra e così noi facendo andiamo a realizzare chiusure invisibili con le diminuzioni sul rovescio dobbiamo procedere così per tutte le maglie ed ecco qui così si presenta il nostro progetto dopo che abbiamo fatto la nostra chiusura guardate che meraviglia non si vede praticamente niente non si vede il punto di unione perché si sposa così bene con il motivo e si intrecciano così bene le maglie che diventa tutto un pezzo unico davvero spettacolare ed ecco qui una volta che abbiamo fatto la cucitura unione diciamo così centrale dobbiamo andare chiudere anche la parte di sopra e ora qui noi andiamo a fare la chiusura utilizzando il bordo decorativo vivagno decorativo che abbiamo realizzato andiamo entriamo nei nostri diciamo la parte del dentino del nostro bordino prima dal lato da di dietro poi dal lato da davanti sempre utilizzando il dentino la maglia di vivagno e facciamo questa cucitura in cui andiamo unire due lati quello ad esempio come adesso da davanti con quello da di dietro utilizzando entrando dentro alle maglie di vivagno decorative che abbiamo realizzato questo tipo di lavorazione della maglia di vivagno viene appunto spesso utilizzato sia per la creazione dei progetti per realizzare un bordo particolare decorativo ma anche quando dobbiamo andare fare una cucitura come stiamo applicando noi ora per il nostro cappellino questo ci permette realizzare una unione invisibile una cucitura invisibile anche dalla parte alta del cappellino guardate che meraviglia sembra sempre continuazione del motivo e così procediamo chiudiamo anche il secondo lato del cappellino andiamo a fissare il nostro filo in questo modo lo facciamo passare da una delle asodine sul fianco e ora andiamo a fare la stessa identica cucitura entrando utilizzando le maglie di vivagno decorativo che abbiamo realizzato portando avanti il nostro progetto ed ecco qui abbiamo finito il nostro progetto guardate che meraviglia e guardate questa chiusura che davvero perfetta invisibile speriamo che il tutorial vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi in modo molto chiaro ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo in più potete venire a trovarci anche su facebook dove abbiamo creato sia la pagina che il gruppo dove potete venire a condividere le vostre creazioni magari se avete anche prodotto riprodotto alcuni progetti seguendo i nostri tutorial a noi farebbe veramente tantissimo piacere vedere i vostri lavori grazie a tutti e al prossimo video tutorial grazie 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 grazie